La crisi che colpisce il settore delle auto, il dominamento è stato tremendo per la produzione in tutto il mondo, gli effetti si sono fatti sentire anche nella componentistica che in Italia tra l'altro vale 45 miliardi di euro. Nel 2020, anno del Covid, la produzione di auto ha fatto segnare un meno 13,8%. In tutto il mondo sono stati fabbricati 78 milioni di veicoli, nel 2019 più di 90 ed era già in calo. Questo ha impattato inevitabilmente sulla componentistica. Le 2203 aziende italiane che producono componenti per auto, una su tre in Piemonte, hanno subito un calo di fatturato dell'11,9%. I dati, cupi ma attesi a causa della pandemia, sono stati diffusi dall'annuale report della Camera di Commercio di Torino. Purtroppo sono dati negativi, per l'Italia ha un calo quasi del 12% del fatturato nel settore automotive, però sono dati anche positivi per quest'anno, il 2021, infatti i primi dati che arrivano per la primo semestre sono di un forte rimbalzo. Purtroppo sono dati che però sono anche condizionati quest'anno da alcuni fattori nuovi, che sono quelli della crisi della materia prima e l'aumento importante dei prezzi delle materie prime, e quindi la disponibilità di alcuni componenti che influenzano proprio la catena di fornitura di tutta la filiera dell'automotive. Dai paraurti alle scocche, dai freni alla progettazione, alle marmitti, ai cambi, alle plastiche, ai pistoni, l'Italia è il leader in questo settore, anche se nel nostro paese si producono sempre meno auto, la transizione verso l'elettrico è complessa e deve essere accompagnata. L'automotive è un settore che rappresenta quasi il 10% del PIL, abbiamo le risorse del PNRR, quindi il governo deve avere una visione strategica su questo settore e investire le risorse, perché questo settore continua a essere importante e quindi garantire anche l'occupazione nella filiera produttiva dell'automotive in Italia. Bisogna che l'Italia sia un posto attrattivo, bisogna che i carri come Stellantis guardano all'Italia come un posto in cui sappiamo fare le auto, ma dove si possono produrre e continuare a produrre le auto e soprattutto anche la progettazione delle auto, quindi il cuore pulsante è anche di grandi gruppi internazionali. Massimo Postiglione, Sky TG24, Torino.